Allora alpino Spaiuz 007 dall'altro lato due giocatori quindi siamo pari Ci siamo ragazzi facciamoli a pezzi Dategli addosso ora Grazie a te Grazie a te Grazie a te Con favore! Cazza roba! Direi che ci hanno decimati! Cazza roba! Voi! Voi avversi! Spacchiamo sempre questa merda! No, stavano cercando stupidamente di camperare nella trench, solo che ovviamente è stupido perché tu puoi anche scavalcarla. Quindi poi se passi da solo poi li trovi israeliti come dei coglionazzi. Erano convinti che eravamo sfondato solo da un lato, in realtà, fa un culo, possiamo sfondare da tutti e due lati. Ok, c'è un ufficiale in quella posizione. Andiamoli a trovare. In che senso non puoi catturare un mostro con la Perfect? Che intendi? Ok. 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 In che senso non ci avere tri squibito. Vediamo che se noi eravamo il害. Ragazzi! Ho preso quel bastardo! Ottimo lavoro! Merda! No, era ora! La siete presa comodo, eh! Ok! Andiamo a prendere l'altra zona! Carica! Come è morto male! Oh! 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 Non è un po' un posto felice questo! Aiuto! Eh, vabbè! Ero circondato! Eh, ti conviene utilizzare la spada lunga e quella migliore con le schivate migliori! Un po' fare il power factor! Ti va a destra da fare la schivata perfetta! comodo! Ci spiegate! Non prendete l'altra zona! Non prendetevi tutti! Ti viene costruire la scuola! E qui! Favatevi tutti! E qui? Ripetetevi tutti! Poi! E qui! e vabbè ragazzi aiutino prendiamo un attimo l'ufficiale e facciamo un bombardamento dovete bombardare quella posizione per me avanti Savoia è arrivato natale auguri vabbè alcuni sono botte non sono tutti giocatori però c'è una la squadra nemica che è veramente scarso buon Natale buon Natale ma ma maledetto l'ultimo ma ti ha ucciso il gasso la fancourt che palla raga però difendete le basi mi state pigliando per il culo che stiamo perdendo gli avamposti così tu staccati da sta metria ti dice che non serve un cazzo qua vai al front mi state pigliando per il culo che staccato non serve non serve la storia mi state pigliando per il culo che staccato io mamma mia quanti volte fa il gassonostardo 3 cicciola deve andare dalla porta opposta dell'obiettivo c'è l'obiettivo l'obiettivo merda e e e e Cazzo, in mezzo di cazzo non li vedo Eh, aveva un attacco, l'arco è un po' inculante perché l'arco ci sarebbe molto attaccato al monstre, è facile che ti colpisce. Il counter della spada lunga è migliore dell'arco, dai. C'è un buon assalto, dopo il prossimo giro si lancio un po' di roba pure io. Ma io ti sto dando un consiglio, poi se vuoi puoi pure giocare con l'arma quella che fa zero danni, quella dell'isola del gioco per aumentare la difficoltà. Qui ci serve il supporto dell'artiglieria! Aereo in arrivo! Dovete bombardare quella posizione! aufa la chitta! Nia! 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 Nio! Nia! 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 Sì. Sono nostri adesso! Sì. 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 Siamo persi la posizione, ragazzi! Guardi! GOOOOOO! Datelvi addosso, ora! Dio di buttana Che palla Sbaracchiamo quella posizione L'artiglieria sta sparando su queste coordinate Partiglieria in arrivo preparatevi ragazzi Aereo in arrivo Partiglieria in arrivo Cava fratello Ormai è nostro Inchiudateli su quella posizione ragazzi Partiglieria in arrivo Esplodi maledetto Esplodi Non ci voglio credere Ah la faccia vostra Ottimo È una tua programmazione finalmente Non ci voglio credere Non ci voglio credere Inchiudateli su quella posizione ragazzi Inchiudateli su quella posizione Cazzo Mi ha preso uno Ero senza munizioni Karate Ma se lo dici tu Non ci voglio credere Non ci voglio credere Per bombardare quella posizione È un ricognitore Sopra di noi Con i miei omaggi Au Questo non me lo aspettavo Che si è fatto una tripletta Suo stronzo Ma perché Che Dio santo Mi ha fatto spawnare In questo buco di culo Via 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 Grazie a tutti Siete gatti Ci proviamo Siete gatti Siete gatti Ok ti tedi a questa postazione Ottimo lavoro andiamo all'altra Scusi permette Siete gatti Siete gatti Siete gatti Siete gatti Siete gatti Attaccate In posizione ragazzi Siete gatti Siete gatti A presto! Oh Ora tenetela Au Incheodateli su quella posizione ragazzi Lo avete mitzo ha finita trincea ora salendo l'osmo ultima zona no mio dio mitragliatore del cazzo no 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 Intiodateli su quella posizione, ragazzi! Sì, 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 sì! mi servirebbe un po' di supporto, dobbiamo prendere prima questa posizione Sono nostri adesso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. attenzione ragazzi che casino ciao chi ma buonasera grazie mille mi servirà tanto non vorrei proprio trovarmi in prima guerra mondiale dentro una trincea è un ripilante qua la morte è letteralmente dietro l'angolo porca materia ragazzi non vorrei fare il pessimista ma sto finendo le munizioni non credo che sono almeno otto minuti buoni che sono qua dentro questa trincea trincea no dai smirato no po po Sì, concordo in pieno con te. Sono perfettamente d'accordo. Vado a dare un paio di ordini perché nessuno si gioca l'ufficiale ed è una figura fondamentale. No, sono in ripagio. Beh ragazzi, intanto vi do il respawn veloce. E' già questo è un bonus gravissimo che non capisco com'è che non lo nerfano. E' resata malvagia! Mamma mia, veramente! Artiglieria in arrivo! Preparatevi ragazzi! Aereo in arrivo! Adesso dovrò buttare un po' di gas, tattica sporca ma a quei tempi si usavano. L'artiglieria sta sparando su queste coordinate! Andate, miei prodi, rendetemi orgoglioso! Mario! Andate! Au! Me ne dan accorto dopo, caraldi! Sì Se giochi in ufficiale Sì Devi andare nel bancariello L'ufficiale E chiamare l'artiglieria In base a cose disponibili Cioè ogni cosa ha un suo cooldown Qui mi sa che non mi serve questo Che mi riduce un pochettino la pistola Mortacci tua Dannazione Per quello ti dicevo che la correttrice è orrenda Perché ti capitano queste cose La che gira l'angolo e ti trovi davanti un nemico Lo devi accoltellare Maledetto Giulian Ok Mi sa che devo passare Un attimo all'assalitore Sennò da qui non ne usciamo Stiamo perdendo questa battaglia E a me ne sono reso conto Au Complimenti per la mira tra l'altro La metriatrice piazzata là E' totalmente inutile Perché c'è questo montarozzo Che ti copre E non vedi nulla Martiglieria nemica Ringraziamo di essere dentro Sta buca Ero in piedi ero morto Ero in piedi ero in piedi Ero in piedi ero in piedi Proviamo col cecchinozzo Vediamo qual è l'approcio migliore Ah sono rimasto da sole I miei compagni mi hanno abbandonato Ah sono passati nella squadra avversaria Ottimo Questo spiega molte cose What the fuck Sorry for all Un nick abbastanza azzeccato Purtroppo Sì mio caro Kimori In teoria Secondo me dovrebbero mettere Un limite diciamo Per evitare di switchare Nei team avversari Ma Ma mi scusi lei C'è andò a perdere la mia mia imbarazzante Perché mi ha stupito Il fatto che è arrivato fino a qua Ci stanno sfondando Qualcuno lo elimini Qualcuno lo elimini E' tu l'uomo che cambierà le sorti di questa pessima battaglia Allora 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 ovviamente avendo un bolt action sterminare tutta la squadra avversaria sarà un po' problematico la squadra avversaria non volevo prendere il cecchino perché l'ho già al massimo ma se sono solo contro tutti non ho alternativa devo usare quello che so sarebbe meglio munizioni permettendo scusa se non ti leggo kimari ma devo stare un po' concentrato col cecchino perché devo vedere letteralmente ogni pixel che si muove prima di mirare ok l'ufficio da Nenico sta preparando sicuramente qualche bombardamento è un brutto segno che giocante se mi mette le fumaggine sono rovinato perché dovrei cambiare poi posizione questa è tutta la mia esperienza di botte su the king sto mettendo a frutto anni e anni di esperienza negli FPS però sto anche finendo le munizioni adesso merda merda ho solo 50 anni prima di ricaricare finalmente mi hanno individuato l'unica cosa che posso fare per cercare di riportare un po' la sorta cercare di usare l'ufficiale l'ultima volta perché ecco questo mercenario che cacchio ci fa lì che non serve a niente quella è una posizione inutile ci serve qui da questo lato del campo di battaglia dovete bombardare quella posizione attaccate aereo in arrivo gas 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 smostarda che il l'ultimo No, 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 lascia, lascia Au Au Sto facendo una guerra praticamente da solo Oh Mi do conto che è un po' grezzo come strategia mitragliare così male Sono solo contro tutti Non me ne pento No merda Grazie Kima Alla prossima e buona serata anche a te Qui mi sa che ha acqua di rosa ormai Oh 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 Ma Robert qua il mercenario returna Vabbè ragazzi abbiamo giocato bene sta partita alla fine Peccato che tutti si sono buttati nel tempo nemico per qualche motivo Inchiodateli su quella posizione ragazzi Va bene dai c'è stata una bellissima partita C'è stata anche l'ultima ragazzi perché sono abbastanza stanco Non è finita finché non è davvero finita Miglior precisione C'è stato di dissenna ha fatto il miglior punteggio sul porto Un bel po' di medaglio ho preso dai 159 uccisioni alla faccia Il gas mostarda ha fatto il suo lavoro ragazzi Un bel po' di medaglio Un bel po' di medaglio Grazie a tutti.